a Nonononononononononononononononono Ma che cazzo? Tu sei uno dei miei migliori impiegati e non posso starmene fermo a guardare mentre getti via la tua vita in questo modo Sei troppo giovane, troppo bello Che cazzo sta parlando? Ma del bambino che sta crescendo nella tua panza, ovvio ciao ciao non sono incinto sicuramente non dopo quel pugno sai faccio un muay thai da un po non posso rimanere incinto capo sei sicuro si sono sicuro scusatemi ma si può sapere perché state urlando tutti ho trovato un test di gravidanza positivo e porca puttana grazie